Grazie a tutti. Grazie a tutti. La prima parte della conferenza sarà in italiano e la seconda sarà in inglese. Grazie a tutti. 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 per non perdere il gioco e provare rapidamente la palla, di attaccarci direttamente, di imporso fisicamente, che cosa possiamo fare in futuro meglio per evitare di doverci confrontare questa idea? Sì, grazie a tutti. Ma sì, un'altra parte della questione è che hai un plan B e abbiamo bisogno di arrivare con un plan B più accurato. In particolare nel primo tempo noi abbiamo fatto molta fatica ad avanzare e quello su cui penso che dobbiamo lavorare è avere un piano B più strutturato, più efficace, laddove il nostro piano A non riesca, come è successo oggi, a incidere sull'incontro. Prego Fabrizio. Grazie. 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 Dopo 20 minuti, hanno giocato 15 contro 14. Pensate che quando avessi avuto il secondo gioco, avessi avuto 26-12, potessi recuperare il gioco? Pallo in mischia, tra i nostri 22, avevano anche il vantaggio, mi sembra lì, quindi comunque anche nel secondo tempo abbiamo ritrovato un po' gli stessi problemi, sicuramente penso che stavamo giocando come volevamo noi in quel momento e poteva esserci sicuramente l'occasione di riaprirla sul 26-14. Sicuramente la partita è ancora in piedi, soprattutto per come stavamo giocando in quel momento, eravamo assolutamente in partita, con le difficoltà che stavamo riscontrando, perché non è stato perfetto il secondo tempo e comunque a momenti continuavamo a essere in difficoltà sotto alcuni punti di vista, però sul 26-14 sicuramente c'era ancora una partita. Sì, credo che nel 26-14 il gioco è stato aperto e anche credito per non permettendo loro di uccidere il gioco, ma inoltre abbiamo continuato a avere problemi simili nella seconda parte, come abbiamo fatto nella prima parte. Sì, ci sono domande da casa? Vedo Alessandro Ferri. Sì, buonasera. Fede, due domande rapidissime. Contro la Francia si sono giocate solo sette mischi chiuse. Qui più o meno sono state giocate lo stesso numero nei primi 20 minuti, a testimonianza del fatto che erano proprio due partite improntate e che poi hanno preso una linea di verza. Secondo te, quanto deve migliorare questa nazionale nella gestione di partite più sporche, di partite più rognose, di partite più dure e poi ti chiedo da seconda linea e da capitano di giornata come hai visto e come hai sentito Jake Pollettri in campo? Grazie. Due domande per Federico. Ci sono stati sette scrami nel gioco del mondo contro la Francia e la stessa quantità è stato giocato oggi nei primi 20 minuti. Come credo che l'Italia deve migliorare in questi tipi di gioco più difficili? La seconda domanda è la seconda domanda di Jake Pollettri e la forma che Federico ha sentito il suo comeback oggi dopo due anni dal rugby internazionale. Penso che sia entrato molto bene, ha portato grande energia, ha portato dei bei palloni in mano, anche in difesa ha effettuato due o tre bei placaggi avanzanti, quindi è entrato sicuramente con grande energia, è stato subito un bel impatto e siamo sicuramente contenti che sia tornato perché fa bene sia alla squadra che al gruppo. Rispetto all'altra domanda, tutte le partite sono uguali, risolvere i problemi in campo può succedere di essere in difficoltà in alcune fasi del gioco e dobbiamo maturare un po', come diceva prima, trovare un piano B magari più velocemente. È un percorso anche questo, magari ci manca un po' di esperienza da questo punto di vista, ma sicuramente ci lavoreremo e dobbiamo usare anche queste situazioni per poter crescere. Quando giochi contro un certo tipo di squadre difficilmente andrà tutto perfettamente negli 80 minuti e forse dobbiamo crescere un po' nel trovare una soluzione più velocemente in campo. Per l'esprende, I think Jake gave some good energy to the team, carried some very good balls e made some effective tackles when he was in the field, so definitely a positive comeback for him and happy to have him back on board. On the other side, you know, any rugby game, any test match is different and, as Kieran said, we need to, you know, start to be more effective in adapting to a B plan when needed and that's also maybe due to a normal lack of experience for a young side and it's plenty to lesson to be learned from the one we played today. Francesco, se voglio non fare una domanda, da casa. Non ti sentiamo, Cristian. Ok, non so se Francesco vuole fare una domanda. Non c'è audio. No, niente audio. Una parola su Lamar e su Giuliani, se sono riferabili per la pausa. Ok, a question to Kieran, is that basically injury update request on Manuel Giuliani and Michele Lamar, if they can be recovered for the Highland game in two weeks' time? Manuel Giuliani is fine, he had to come off for an HIA assessment, which he passed, but it was close to the end of the game, so he is fine. As far as Lamar goes, we will have to reassess that as we go through, he's looking like an old man at the moment, he got a pretty big knock on his thigh, so we're hoping it's just like a dead leg, but we'll have to see how he is tomorrow. Paolo Garbisi, he trained with us all the last two weeks and he's gone back to, as part of his rehab, we'll play for Montpellier this week, this next week. And if he gets through that, he will rejoin the squad on next Monday. Partendo da Paolo Garbisi, si è allenato con noi, è tornato ora a Montpellier con il suo club, per cui dovrebbe giocare la prossima settimana per poi tornare in raduno. Giuliani è uscito per un HIA che ha superato, quindi l'HIA era negativo, Lamar ha preso una botta sulla coscia, cammina un po' a fatica, ma è da rivalutare domani. Se puoi fare una riflessione su come sono andate e chi erano queste prime due giornate, le 6 nazioni per l'Italia. I would have preferred two wins, pretty frustrating really, we were really frustrated last week. And today, credit to England, they put us under a lot of pressure in that first half. And suddenly one of the most penalised teams in the Six Nations around scrums, which is something we're going to have to have a look at. Obviously they must have different rulings down in Southern Hemisphere or something, I think, I don't know. But anyway, we'll have a look at that and go through the right channels. But yeah, no, pretty frustrated really. I mean, what happened out there today makes last week a lot, feel a lot worse as well. Because, you know, we had a real opportunity last week. You know, we didn't really have an opportunity today because England pushed us out of it. But... It's frustrating, very frustrating, especially to think about the last week of France because we had a real opportunity that we haven't had today. So, to answer your question, two victories were certainly best, but, credit to England, we had a lot of pressure in the first time. and I think we're the most penalised team on the order of this Six Nations, and the Interimisfero Nord. So, it's something we have to do to see what we need to do and where we need to intervene. I think the other thing, too, is that from a coaching perspective, I mean... Look, we were... That could have got right away today. You know, in that first half, after that first half, you know, it could have been 50 points easily. But, you know, our boys, you know, we had a good talk at half-time, and they barred up, basically, in the second half. And, you know, that's growth of the team. And, you know, that is something we can certainly take forward. And, you know, we've got Ireland next, so it doesn't get any easier. But we'll, you know, work hard at it, and hopefully these, these defeats, the way they've happened, will stand us by, you know, good stead in the future. Do you know what's going on? Well, I mean, I thought of it... Well, I think that's a great start. Well, yes, we've never done it. until now... and then we talked about it through the beginning C'è sicuramente la crescita ed è qualcosa con cui guardare e approcciare la partita del prossimo 25 febbraio contro l'Irlanda che non sarà sicuramente una partita più facile di questa. C'è sicuramente la crescita ed è una partita più grande. C'è sicuramente la crescita ed è una partita più grande. C'è sicuramente la crescita ed è una partita più grande. C'è sicuramente la crescita ed è una partita più grande. C'è sicuramente la crescita ed è una partita più grande. C'è sicuramente la crescita ed è una partita più grande. Se ho capito bene c'era un giocatore dell'Inghilterra oggi che aveva le unghie colorate con la bandiera dell'Inghilterra. Quale sarebbe la tua reazione al fatto che uno dei tuoi giocatori facesse altrettanto con la bandiera italiana? C'è sicuramente la crescita ed è una partita più grande. Cosa pensi dell'incidente tra Sab Negri e Owen Farad? C'è sicuramente la crescita ed è una partita più grande. Grazie mille. 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 Grazie mille.